in russia ragazzi si è tenuto un concorsino di quelli proprio niente male dedicato ad una precisa parte del corpo femminile che piace chiaramente ai maschietti ad aggiudicarsi la fascia è stata anastasia strashevskaia che ha vinto il titolo di miss gambe lunghe vi starete chiedendo con che misure ragazzi 106 centimetri e ha sbaragliato la concorrenza di altri 52 spi lungone bellissimi chiaramente la ragazza è di origine siberiane è un avvocato e ha detto che nonostante questa vittoria non ha intenzione di lasciare le aule dei tribunali ma anzi vuole specializzarsi in diritto civile al daily mail poi ha anche detto che cosa ci farà con la somma vinta perché oltre alla fascia ha vinto anche 1600 sterline e ha detto parte del denaro ho intenzione di spenderlo in un regalo per i miei genitori e voglio donarne ai bambini malati di cancro quindi bellissima altissima e super generosa la ragazza poi ha anche aggiunto che la sua famiglia è molto orgogliosa di lei e di questa vittoria questa vittoria mi ha dato una grande gioia perché sognavo tutto questo è brava Anastasia ma se c'ha delle gambe ragazzi pazzesche no? Avercele